L'iscio.1 e Canale Italia presentano Top 10 La classifica ufficiale italiana della musica da ballo In collaborazione con Media TV Global Communication Scopriamo subito le 10 canzoni più importanti della musica da ballo in Italia di questa settimana Top 10 DJ Berta con Danza Gitana 9 Al nono posto c'è L'orchestra Bagutti con Dalla fine del mondo 8 In ottava posizione una catena di Daniele Cordani 7 Enrico Iglesias bailando 6 Tony Autodisco con Se ogni tanto 5 Omar Codazzi e Elena Camarone con Scelgo te 4 Al quarto posto Afrodite di Rossella Ferrari e Casanova Ma entriamo nelle tre posizioni più importanti della classifica 3 Castellina Pasi con Grande 2 Mariana Lanteri con Penna Nera Primo posto per Il volo con Grande Amore Il ballo di gruppo del mese di Liscio.1 è presentato da Media TV Ballo di gruppo del mese di Liscio.1 O segui le tv e le radio facenti parte del network Liscio.1 Vi aspettiamo martedì prossimo alle 20.55 Per scoprire la nuova classifica ufficiale italiana della musica da ballo Per scoprire la nuova School Per scoprire la nuova costume dei Lautaro Per scoprire la nuova classifica ufficiale Anfang Europe Per scoprire la nuova classifica ufficiale till lontanga Grazie a tutti